I criteri di costruzione conferiscono ad ogni prodotto un alto grado di estetica e duratura nel tempo De Siena produce serramenti in alluminio e legno alluminio, finestre, verande, portoni, persiane, persiane blindate, tapparelle anche di sicurezza e motorizzate, cassonetti, zanzariere, porte interne blindate Specializzati nella produzione di serramenti SAPA a taglio termico certificati UNI Cancelletti di sicurezza, serrande e tende da sole I criteri di costruzione di altissima qualità e la cura anche nei minimi particolari nella messa in opera conferiscono ad ogni prodotto un alto grado di estetica e duratura nel tempo